Il corso Sinergie a distanza, strategie per gestire team ibridi e da remoto, offre ai leader gli strumenti essenziali per affrontare le sfide della gestione di team virtuali o ibridi. Si concentra sullo sviluppo di competenze gestionali e relazionali specifiche per mantenere alta la motivazione e il coinvolgimento anche a distanza. Attraverso strategie, pratiche, il corso aiuta i partecipanti a creare una collaborazione efficace, favorendo la sinergia e la comunicazione. Inoltre, permette di acquisire metodi concreti per costruire fiducia e una cultura di team solida, anche in contesti virtuali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.